Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Salvini, il leader della Lega, dice se vogliamo il Green Pass per tutti, al momento finiremo a ottobre, facendo saltare la stagione e le vacanze. E vi dico perché ha ragione il capo della Lega. Ieri parlavo con mio padre via video messaggio, video chiamata, non video messaggio, video chiamata, e mi dice beh non so adesso come fare con le vacanze, perché dove vai? Ma ho già prenotato da tempo per andare in Sardegna. Dico qual è il problema? È che con il Green Pass ho letto che anche sulla nave ci vuole il Green Pass. Il decreto che faranno sarà obbligatorio anche sulla nave, ma non su tutte le navi, sulla nave che fanno lunghi tragitti. Io gli ho risposto probabilmente il traghetto che porta da Arona ad Angera i lavoratori, quello non ha col Green Pass, ma il traghetto che va dalle coste della Toscana, da Civitavecchia fino in Sardegna, lì probabilmente sicuramente ci sarà da mettere questo Green Pass. Vi faccio ma qual è il problema? Vi dice beh io ho fatto tutte e due le vaccinazioni. Vi faccio beh quindi allora che problema c'è? Eh non ho ancora il Green Pass, faccio come? Eh guarda altre persone lo hanno fatto e ti arriva automaticamente un codice per scaricarti questo Green Pass. Il codice ti arriva tipo 20 giorni dopo. Ah, 20 giorni dopo. Dice io l'ho fatto il 2 di luglio, siamo al 19, non ho ancora nessun codice, non posso scaricare questo Green Pass. Dice non so se arriverà, gli ho richiesto, ma se non arriva che puoi fare? Fa niente, non è che puoi telefonare a qualcuno, c'è un'email del ministero, da qualche parte, ma chi ha provato a mandare un'email non ha ricevuto nessuna risposta. Io dico ovviamente figurati, figurati se lo Stato si mette a rispondere alle email. Già abbiamo disservizi enormi in molte strutture dello Stato, se uno deve fare un documento, chiamare, è un disastro, manco ti rispondono. Adesso guardate che con la scusa che c'è il Covid-D, con questa scusa qua, non rispondono al telefono, c'è Covid-D. Non rispondono alle email, c'è Covid-D. Dice ma non riesco a parlare con nessuno. Eh, c'è Covid-D. Adesso con sta storia qua la gente ha imparato a fare niente, a fare meno di prima. Adesso far ritornare a lavorare le persone come prima è un bel problema, perché con la scusa c'è Covid-D, molta gente in tutto il mondo si è abituata a fare niente, no? Eh, c'è Covid-D, c'è quel lavoro lì, non lo posso fare, c'è Covid-D. Eh, c'è Covid-D. Insomma. Pertanto già prima c'erano problemi con la pubblica amministrazione, di grandi disservizi. Adesso questo si è aumentato, perché c'è la scusa, c'è Covid-D. Quindi quello che dice Salvini, che con questo Green Pass obbligatorio farà saltare la stagione e le vacanze. Immaginate chi voleva andare al mare e prenotare oggi. Dice voleva andare in Sardegna, voleva andare in Sicilia, voleva andare in Calabria, voleva andare di qua, di là. Dice vado a fare subito questo Green Pass, devo fare la seconda dose, devo prenotare, poi non sapendo, dice beh, quando ho fatto la seconda dose o tutto io il Green Pass ce l'ho immediatamente, no? Passano forse almeno 20 giorni e e con almeno 20 giorni, adesso che siamo al 19 di luglio e questa imposizione uscirà tipo il 26 di luglio, capite che le vacanze sono belle che fregate. Nel senso che da oggi in poi nessuno si metterà a prenotare, nessuno si metterà a prenotare o quelli che prenoteranno rimarranno fregati perché quando dice adesso partiamo fra 10 giorni, vado a fare il Green Pass, guardi, le arriverà un messaggio con un numero. Ah, e quando? Oggi? Eh oggi, domani, dopodomani, forse fra una settimana, 15 giorni. Come? Ma io devo prenotare? Eh, prenotare. C'è Covid-D. Avete capito ormai? C'è Covid-D. E io mi dico, perché il numero deve arrivare dopo 20 giorni? E mi chiedo, è questa l'efficienza della macchina statale? È questa l'efficienza della burocrazia italiana? C'è Covid-D? Bisogna fare ripartire l'economia? Allora andiamo nell'albergo con il pass, con il Green Pass? Ok, va bene, farò sto Green Pass. Poi aspettare 20 giorni che ti arriva il codice. Ecco, io questo l'ho saputo solo perché mio padre me l'ha detto, se no non avrei mai saputo, non avrei mai immaginato che quando tu fai la seconda vaccinazione poi il Green Pass ti arriva forse dopo 20 giorni e sei fregato. Se non gli arriva mio padre questo Green Pass, questo codice, saltano le vacanze e manco gliele rimborsano, non gliele rimborsano. Però qui lo Stato dovrebbe intervenire, perché se io prenoto delle vacanze e tu me le fai saltare, a questo punto deve esserci qualcuno che risponde per il danno subito. Qui sono cause di forza maggiore, non è che uno non va in vacanza perché non c'ha più voglia, non va perché gli viene impedito. Sì, viene impedito da una situazione di un certo tipo e tutto il resto, però ci deve essere una sorta di tutela del consumatore. Voi che dite? Mio padre dice no, qui l'agenzia ti rimborsa i soldi o lo Stato ti rimborsa i soldi solo in alcuni casi e questo non è uno di quei casi per il quale arriva il rimborso. Diciamo che in un sondaggio che ho visto ieri chi è favorevole a questo Green Pass nel centrodestra sono oltre la metà. Tra il 52 e il 56% degli elettori di centrodestra sono favorevoli a questo Green Pass obbligatorio per accedere al trasporto pubblico, stadi, concerti, locali, navi, treni, villaggi turistici, alberghi, mentre quest'ipotesi ha sollevato la contrarietà di una parte di Fratelli d'Italia e di una parte della Lega di Matteo Salvini. Ad esempio Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, Giulia si è detto favorevole al Green Pass, quindi ci sono delle posizioni assolutamente differenti. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti, al prossimo video.